Sono stato eletto consigliere comunale a Taranto, 4.200 voti di preferenza mi danno l'entusiasmo, l'orgoglio di continuare a battermi, a lottare per Taranto, questa volta appunto nella veste di consigliere comunale dai banchi dell'opposizione. Mi voglio battere per tutti, in particolar modo per i più deboli. Mi trovo a San Vito, viale del tramonto, ma il discorso è molto più ampio, mi riferisco alle barriere architettoniche per i disabili, il negato accesso al mare sulle spiagge. Vedete qui una bella zona, una spiaggia libera, una delle poche rimaste libere e l'estate, il mare, il sole, l'acqua devono essere per tutti, per normodotati e per diversamente abili. Vedete, è una vergogna, è uno scempio, caro Melucci, caro sindaco Melucci, che qui non ci siano passerelle appunto per favorire l'arrivo, l'accesso al mare dei disabili. Dove sta scritto che un diversamente abile arriva sulla carrozzella e non può andare oltre? Si può fermare qui, guardate, qui c'è la battuta di cemento, oltre non va, ma è mai possibile e deve soffrire dentro di sé per non poter arrivare alla riva. In altre città non è così. Taranto non deve essere da meno. Taranto deve essere una città a misura di diversamente abile. Questo te lo devi mettere bene in testa, caro Melucci. Tu che sai sciacquarti la bocca parlando di transizione. Quale transizione? Quali chiacchiere hai raccontato e stai raccontando? Pensa alla gente, ai poveri disgraziati che non possono andare a mare, che non possono arrivare sulla spiaggia perché non c'è una passerella. Questo dovresti pensare invece di fare chiacchiere. Perciò muoviti, muoviti, datti da fare. In 4 e 4,8, in uno o due giorni si mette la passerella. Siamo stanchi di sentire le tue chiacchiere. I disabili vogliono vivere, i disabili vogliono andare a mare. L'estate deve essere per tutti, per normodotati e per diversamente abili.